Presepe di San Silvestro a Pescara siamo con Giuseppe Di Lizio che è colui che ha realizzato quest'opera davvero molto interessante intanto com'è nata l'idea ma io prima abitavo al centro di Pescara 35 anni fa sono venuto ad abitare qui alla casa paterna e ho cominciato a fare un piccolo presepe e venivano dei ragazzi pure dalle scuole con tanto entusiasmo con tanta soddisfazione ma a mano ho cercato di realizzare sempre più grande adesso è posizionata su una superficie di circa 200 metri quadri e io ogni anno la metà di ottobre per me è come una preghiera nella solitudine realizzo il presepe e faccio dei cambiamenti e con tanto piacere pure perché noi catapultiamo i bambini nell'oceano della tecnologia regalando loro computer, cellulari, li facciamo grandi da piccoli, i bambini hanno bisogno di fantasticare allora regaliamo loro un po' di fantasia anche perché potrebbe essere un avvenire migliore che tutti ci dobbiamo auspicare Ecco un presepe davvero molto interessante, vengono da ogni parte della regione Abruzzo a trovarvi quindi fino a quando resterà a disposizione della collettività? Bene, io penso che fino dopo l'Epifanie rimane aperto però dopo se qualcuno, qualche ritardatario sono pure propenso ad aprire, non c'è problema L'assessore al comune di Pescara Eugenio Seccia si commuove nel vedere il presepe di San Silvestro a Pescara? Sì, molto bello, molta passione, molta religiosità in quello che si fa ciò che manca molto spesso nella vita di corsa di ogni cittadino tant'è che questo presepe è diventato grazie a Giuseppe Di Lisio, Peppino per gli amici un punto di riferimento anche per Scolareschi che è proveniente da tutto l'Abruzzo è un punto di attrazione da 35 anni, grazie alla sua passione che ha riuscito a trasmettere a tutti coloro che sono appassionati delle tradizioni e in qualche modo della religiosità che ci riporta soprattutto dopo questa pandemia con un po' con i piedi per terra e legati a quelle che sono le relazioni umane Ma nel visitarlo, Assessore Seccia, cosa le è rimasto impresso di questo fantastico presepe qui a San Silvestro? La cosa che mi è rimasta impressa con rispetto parlando per la bellezza del presepe è la passione e la scrupolosità di Giuseppe Di Lisio nel descrivere gli ambienti che vengono realizzati con questo presepe, il voler rappresentare l'universo mondo che ovviamente è tradotto in ogni rappresentazione di area di questo presepe quindi un grazie veramente di cuore a Giuseppe Di Lisio che mantiene alte le tradizioni e fa diventare questo luogo San Silvestro, se mi permettete, punto di attrazione anche nel Natale Grazie 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 Grazie